iniziamo la nostra giornata senza farci vedere da Tommaso mi raccomando eccoci siamo qua mamma coprimi che se no Tommaso mi vede dove siamo qui? sotto l'Empire State Building Claudio illustraci il programma della giornata qual è il nostro programma di oggi? non lo so però dovremmo andare a visitare l'Empire State Building eccolo qua quanti piani sono? ma come ne ho studiato? ma dai su non hai studiato? poi mamma top of the rock e rockfeller center top of the rock e rockfeller center e poi andiamo a prendere preparatevi a una reazione scomposta di Tommaso appena si accorgerà che lo stiamo riprendendo no ti prego l'importante è che non lo metti subito no non ce lo metto come faccio a non metterli? è l'unico modo per vederli questi video no è stata una reazione abbastanza composta si è messa alle spalle quindi siamo a posto quindi avete studiato un po' quanti è alto questo? 340 metri 340 metri ci sono due osservatori e la più antica diciamo ma non è la più alta perché le torri gemelle erano 400 metri però uno diciamo degli edifici storici di New York uno dei grattacieli storici è un po' più antico si penso che risalirà agli anni 50 ci ha voluto un anno e 45 giorni per costruire perfetto sei documentatissima di qualche altra cosa sull'emparse ed building mamma immagina quando dovrai far vedere questo bellissimo video alle tue amiche e quindi l'avrai illustrato a dovere ecco facciamo una panoramica sulla via i track che piacciono tantissimo a Flavio come si chiama questa? mind bike mind bike mind bike attenzione alle biciclette mind bike ok sei a rock you qui siamo a che piaccia è questa? che strada è? 6th Avenue la 6th Avenue this is Greeley Square notate la pronuncia veramente impeccabile della signora santese dell'avvocato santese ASPUNTONE ascolta si si il 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 Andiamo! Andiamo! L'estrema cura come vedete Per l'arredo urbano Cosa alle quali noi Troppo a Roma siamo ormai disabituati C'era lì un signore che innaffiava delle piante Qui i carretti Col cibo Va bene Direi che a questo punto possiamo interrompere Questa prima parte della registrazione Riprenderemo fra poco Bye bye